Io sono Stefano Cresca e ho acquistato questa macchina su epharma.com Ho fatto tutto tramite telefono chiamando Marco per prendere questo Fend 939 che stava in Polonia. Loro organizzano da la A alla Z, vedi la macchina, puoi mandare un meccanico esterno per fare una perizia e tu vai e decidi se vuoi pagarla la puoi pagare oppure con una piccola percentuale ti arriva la macchina a casa e solamente dopo la visione, la prova e tutto quanto la paghi e quindi ho deciso di acquistare la macchina senza pensieri. Grazie a tutti!